117 in attesa, bene, a questo terzo appuntamento di Catechesi sul cuore immacolato di Maria, la cui festa celebreremo domenica prossima e alla quale ci stiamo preparando. Stanno sparando i giochi d'artificio, ma solo perché da qualche parte in questo ristorante tutti col Green Pass stanno festeggiando matrimonio, anche se avevo pensato che sparavano i giochi di artificio perché iniziavo la Catechesi, ma ogni tanto ci si illude. Ecco, va bene, allora miei cari figlioli, dunque siamo al terzo incontro di preparazione alla festa del cuore immacolato di Maria, forse questa sera è quella nella quale particolarmente sottolineeremo l'importanza di questo cuore tutto santo e tutto puro, manca il telefono delle telefonate, è tutto santo e tutto puro che Dio ci offre per questi nostri tempi. Dobbiamo ribadire questo concetto direi fino alla nausea perché purtroppo tante volte sfugge, cioè Dio ci ha dato per questi tempi di attacco satanico nel quale tempo vediamo molto bene e la egemonia satanica diffondersi sempre più chiaramente nel mondo e allora stavo dicendo per questi tempi Dio ci ha già dato, ci ha già dato la soluzione, siamo noi che dobbiamo prenderne coscienza. La Madonna ha detto a Fatima Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, dunque è Dio che ci ha dato il cuore immacolato di Maria. Oggi è stata la festa di San Giovanni Eudes, che è stato uno dei primi nella storia del cattolicesimo romano a portare avanti la devozione al cuore immacolato di Maria, però quello che era in passato una devozione oggi è una necessità, starei per dire. Cioè o ci rifugiamo nel cuore immacolato di Maria o diventeremo preda di Satana, in un modo o in un altro, perché questo io penso, l'ho scritto nel mio libro di commento all'Apocalisse, che spero possiate avere modo di leggere, dunque io dicevo, ho scritto nel mio libro che secondo me questo che stiamo vivendo è proprio il tempo che prepara l'imminente venuta dell'anticristo, è il tempo del barchio della bestia, è il tempo in cui il New World Order organizza un piano sistematico, ragionato, articolato, pianificato nei dettagli con il quale avere il controllo delle menti. In una parola, miei cari figlioli, l'ho detto in giro per l'Italia nell'ultimo tour e forse lo ribadirò nel prossimo che inizia, a Dio piacendo, lunedì prossimo a Cagliari, la Santissima Trinità. Questo è il punto decisivo, il punto di svolta e quello che deve entrarvi più che nella mente e nel cuore. Il punto decisivo è questo, in Genesi 1,26 noi leggiamo che Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, è il plurale triditario come dicono i padri della Chiesa. Ovviamente gli ebrei si trovano sempre un po' in difficoltà perché non sono in grado di giustificare in quanto al loro rigido monoteismo che esclude il tema della Trinità padre figlio spizzato che è sempre un solo Dio ma in tre persone e quello spiega perché è il plurale e loro non sanno come giustificare questo plurale che è un plurale non maestatis cioè di uno solo che parla al plurale ma è il plurale come dicono i padri triditario. Questo lo hanno avuto sempre chiaro i padri della Chiesa. Mi viene in mente Ireneo di Lyon per fare un solo esempio che era discepolo dell'Apostolo Giovanni quindi dell'epoca immediatamente post-apostolica. Allora le tre persone divine dicono facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Chi conosce bene la Sacra Scrittura io vi invito sempre a leggerla personalmente i miei cari figlioli perché una mezz'ora di lettura personale della Sacra Scrittura ottiene l'indulgenza plenaria se non lo sapete. C'è proprio l'indulgenziario che prevede l'indulgenza plenaria cioè completa dei propri debiti di transa Dio quando si legge personalmente per mezz'ora la Sacra Scrittura. Chi conosce il libro di Genesi sa anche nell'originale ebraico e così ho potuto avere modo come tanti miei contratelli credo di poterlo studiare nell'originale e vi si legge che Dio crea il cielo, la terra, il mare, i monti, i fiumi, i laghi, le nuvole, il sole, la luna eccetera eccetera ma poi dopo il climax, ecco qui come lo chiamerebbe San Tommaso d'Aquino, l'horizon lui usa anche questa espressione, Tommaso d'Aquino è l'essere umano, è Adamo facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza tutto il circuito della storia salvifica ruota intorno alla creazione dell'uomo cioè la creazione dell'uomo è decisiva questo essere straordinario adesso io non voglio fare un trattato di antropologia teologica perché non è il momento rimaniamo nel tema mariologico, fra un momento capirete perché però questa premessa ma questo dice il Salmo ti lodo signore perché mi hai fatto come un capolavoro l'essere umano è un capolavoro, è qualcosa di incredibile già dal punto di vista fisico il corpo umano ha una capacità di autotutelarsi che è straordinaria straordinaria il sistema immunitario, il sistema nervoso, il sistema linfatico io non sono un medico però mi affascina molto questa complessità biochimica biochimica dell'essere umano per cui l'uomo è costituito veramente come un capolavoro di Dio è l'unico essere animato che sta in piedi che sta in piedi, gli altri animali, gli altri esseri viventi come sapete sono tutti con la testa in giù solo l'uomo guarda il cielo e lo scruta e lo studia perché Dio lo ha creato a proprie immagini e somiglianza e allora per dirla in una parola Sant'Omaso d'Aquino e tutta la scolastica dicono che l'uomo si distingue per due qualità che sono divine ecco in noi e infatti oggi che è un tempo antidivino l'uomo ha rinunciato a queste due qualità io ho confessato fino alle 9 meno 20 quasi 8 e 35 perché avevo detto che questa settimana avrei confessato e veramente rimango commossa anche adesso che lo dico rischio di piangere perché io mi commuovo di tutta questa gente che sta venendo a piccola Nazareth a confessarsi all'aperto con la mascherina che vengono a confessarsi perché hanno sentito che Don Minutella questa settimana prima di ripartire che confessa ho iniziato alle 18 e 25 quando ho terminato la messa ho finito alle 20 e 35 una cosa straordinaria questa fame di Dio questa sete di Dio anzi grazie a tutti i miei fedeli di Palermo e dintorni che sono venuti e vengono ancora domani e poi sabato a confessarsi per me è una testimonianza straordinaria che dice che nonostante Bergoglio nonostante la falsa chiesa nonostante l'anticristo nonostante Lucifero nell'essere umano è incancellabile il desiderium dei il bisogno di Dio allora stavo dicendo due sono le qualità che Dio ha dato all'essere umano quali sono la teologia scolastica dice che sono intellectus questo qui intelletto la mente e voluntas cioè il cuore ora non entro nel merito domani è penso che lo sappiate 20 agosto è la festa di uno secondo me dei dei titani del cattolicesimo romano e di tutto il cristianesimo in generale sto parlando di San Bernardo di Chiaravalle no il doctor Marie il doctor Melliflus no quello da cui dalle cui labbra usciva il miele lui stava sempre male morto anche abbastanza giovane si ricalca i santi non si reggeva in piedi pensate che dovunque andava in giro per l'Europa gli ha detto vai in giro perché perché lì era il papa che glielo diceva vai meraviglioso per lui penso no immaginate vai in giro perché devi portare questa parola che Dio ti ha data e la gente rimaneva quando commentava il cantico dei cantici e soprattutto quando parlava della Madonna ah come vorrei imitarlo San Bernardo dice tutto mi riesce pesante ma quando parlo di Maria il mio cuore si eleva al cielo è una cosa meravigliosa questa allora San Bernardo domani la sua festa era chiamato doctor Melliflus stava sempre male si portava presso una vaschetta perché aveva problemi di stomaco praticamente non digeriva nulla e spesso quando predicava doveva interrompere perché aveva i conati di vomito allora non c'era l'omeprazzola ecco allora stavo dicendo adesso io non entro nella Chiarelle ho detto giusto che sono i francesisti mi saltano addosso la Chiarelle a cavallo tra il primo medioevo e il tardo medioevo su quale delle due qualità che Dio ha dato all'uomo sia più importante perché questi sono pure chiesti qual era la più importante oggi noi ce ne freghiande meno dicono a Roma ma allora discutevano di questo perché loro dicevano Dio ha dato due qualità all'essere umano rispetto a tutti gli altri esseri umani quali ho detto poco fa intelletto e volontà cioè il pensiero e il cuore l'amore e i teologi hanno discusso tra di loro è nata una contesa tra scuola francescana francescana e da una parte e monastica da una parte e scuola dominicana tomista dall'altra i due più grandi rappresentanze anzi tre sono due hanno detto che la qualità più alta dell'uomo è l'amore è il cuore alla fam la fam la fam fatale è il cuore no e chi sono questi due santi teologi e dottori della chiesa che hanno detto san bernardo san bernardo e di chiaravalle di cui domani faremo la festa e san bonaventura da bagno reggio che è considerato insieme a sant' antonio da padova l'espressione più elevata della teologia francescana in momenti diversi perché l'uno vive nel dodicesimo secolo l'altro nel tredicesimo bernardo e bonaventura dicono abbiamo due qualità per le quali siamo a immagine e somiglianza di dio e che sono l'intelletto il pensiero e il cuore e loro dicono la teologia monastica la teologia francescana la qualità più importante è il cuore l'amore no ma li ha battuti a mio avviso san tommaso d'aquino che da solo ha detto no vi sbagliate però è meraviglioso pensare che adesso noi possiamo fare coi tempi di casino totale che esistono possiamo riferimento fare riferimento a tutti e tre perché se non avete capito niente la qualità che ci avvicina di più a dio non è la voluntas il cuore l'amore è l'intellectus e lui spiega il cuore ama e gode dell'amore l'intelletto intuisce e si diletta fruisce del pensiero di dio è difficile forse da capire ma lui voleva dire c'è una delectatio c'è un gusto dell'essere umano di meditare che è straordinario che arriva a capire le cose aristotele non so se lo sapete aristotele dice ci sono tre fondamentali attività nell'essere umano che sono attività carnalo carnale sessuale l'attività contemplativa e l'attività politica e lui dice di queste tre la più elevata già aristotele quindi in epoca precristiana è quella contemplativa allora già c'era nei filosofi precristiani questo riconoscimento nei confronti della dell'intelletto che è capace di studiare questo creato e arrivare a ancora oggi ma infatti oggi è l'epoca in cui si rinuncia alla ragione non c'è alcun dubbio allora dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza e dice la teologia cristiana questa immagine questo dice l'antropologia teologica questa immagine e somiglianza di dio è l'uomo che ha queste due diciamo facoltà poi addirittura con san giovanni della croce la mistica se ne aggiunge una terza ma ci perderemmo di caso se ve lo dico che sarebbe la memoria comunque dice dice la teologia sono un intelletto e la volontà ora se il piano salvifico di dio che termini tecnici si chiama o economia in greco c'è l'economia cioè significa il dispiegamento del piano salvifico prevede che la sintesi l'orizzonte finale del creato sia l'essere umano ovvio che satana debba prevedere la realizzazione di un anti uomo cioè adesso stringi stringi noi dobbiamo concentrarci sul transumanesimo io non l'avrei mai immaginato ci sono autori che ne hanno parlato e non sono cristiani diego fusaro sta portando avanti una battaglia che io minchino dinanzi a lui perché non parla in nome della fede in nome della ragione umana vittorio sgarbi con tutti i suoi limiti espansivi diciamo così massimo cacciari montagnier luc montagnier premio nobel sono personalità per lo più non cristiane perché i preti ormai sono tutti rintanati una cosa guardate mi spiace dirlo masco si squallida perché non è che in definitiva almeno non adesso in questo momento si rischia la vita ma non vogliono scendere in campo non stanno proteggendo il gregge anzi e poi vengono queste figure come appunto il giovanissimo diego fusaro che ha un coraggio nello scrivere che rimani senza parole potrebbe anche sbagliare ma va rispettato per il coraggio che ha di esprimere papale papale quello che pensa e questi sono quelli che non stanno rinunciando alla ragione in un tempo in cui l'uomo sta rinunciando alla ragione l'uomo contemporaneo un uomo senza ragione questa è la verità non è che non è senza fede è senza ragione l'uomo d'oggi la gente mi dice quando si confessa patria la gente è pazza nella guida nei rapporti interpersonali a scuola nei centri che dovevano essere quelli educativi c'è una follia totale un casino che può venire solo dall'anticristo da satana è una situazione assolutamente direi tragicomica a me è capitato ieri mattina stavo passeggiando pregando il rosario quindi a passo pedolente e allora a un certo punto io passo dalle strisce personali sì personali le strisce pedonali ma erano persone me le avevano fatte apposta ci posso passare solo io ci posso passare solo io nessuno può passare se non la multa strisce personali pedonali e uno era fermo avreste dovuto vederlo avreste dovuto vedere alla quintessenza dell'uomo senza ragione proprio allo stato brutale no barbaro peggio perché l'uomo d'oggi che rinuncia a dio che rinuncia alla ragione e che si lascia comandare dai diktat di satana che governa è diventato un uomo brutale brutale non si vede più la traccia di dio nell'uomo d'oggi allora io stavo passando posso dire come mi ha detto lo posso dire a stronzo dal finestrino e togliti di mezzo che ho premura sulle strisce pedonali io ero e poi con una una rincorsa avete quando slittano le ruote arrabbiato ha rischiato di prendermi mettermi sotto perché io stavo attraversando normalmente la gente è impazzita la gente oggi questo è il punto non ha rinunciato alla fede io mi aspettavo che la questione decisione fosse l'apostasia della fede no oggi è l'apostasia della ragione i veri sacerdoti che vanno ascoltati non sono quelli che predicano inutilmente non si mi piace molto bene di cosa parlano i sacerdoti cattori sono i sacerdoti alla diego fusaro i nuovi aristotele i nuovi platone incredibile perché oggi è in gioco non la fede che ormai è del tutto grazie a bergoglio seppellita perché ci sono gli unacume che hanno voluto rimanere con bergoglio oggi la vera questione è il seppellimento della ragione appena l'uomo seppellisce la ragione diventa una bestia scusate le camere a gas sono non so se siete d'accordo sono la la contrapposta la contraddizione stessa della ragione umana i campi di sterminio allora se dio la trinità ha creato l'uomo a propria immagine somiglianza satana satana deve creare deve creare l'anti uomo a propria immagine e a propria somiglianza e siccome beffeggia dio scimmiotta dio se l'uomo è il capolavoro del creato e viene creato dalla trinità divina l'anti uomo è il capolavoro dell'anti trinità diabolica di cui io parlo nel mio commento al libro dell'apocalisse secondo me fa chiarezza io se mi fate avere l'indirizzo di diego fusaro io lo vorrei spedire gratuitamente il mio libro chissà che non si converta anche diventi cristiano non so se è cristiano non lo so e qual è quest'anti trinità divina è in apocalisse 12 13 il drago rosso che è il padre eterno no l'anti padre eterno cioè satana poi c'è il figlio prediletto che lucif e che è l'anticristo e infine scusate se ogni tanto mi scappa qualche parola ma ho ancora qui gola e il cibo che ho appena consumato perché ho finito di cenare cinque minuti fa e il terzo lo spirito santo è il falso profeta il propagandatore o il propagatore colui che porta avanti la propaganda dell'anticristo è un'anti trinità devono creare l'anti uomo questo il progetto lo scontro al di là di tutti gli altri aspetti che nel corso dei secoli si sono sviluppati adesso è questo quello decisivo l'uomo creato a immagine e somiglianza di dio l'anti uomo creato a immagine e somiglianza di satana però bisogna tenere gli occhi aperti ed essere disposti a pagare un prezzo attenti a queste due cose bisogna tenere gli occhi aperti ed essere disposti a pagare un prezzo gli occhi aperti la dinamica di satana per chi lo conosce bene è molto sudola satana non ti farà mai credere che ciò che ti propone è male vediamo per esempio il peccato della carne molti sono ostaggio del peccato della carne satana l'induce al peccato carnale poi appena questi hanno finito il godimento fisico si sentono uno schifo fanno pena a se stessi perché satana gli presenta il frutto proibito e poi dopo li avvelena con le conseguenze del peccato che è la devastazione della coscienza eccetera in questo scenario il cardinale vergoglio offre una grande mano d'aiuto al diavolo quando dice che i comandamenti non sono assoluti ditemi voi se non sta facendo un'azione detonatrice dove a pagare di più non saranno le povere vittime che gli credono ma iunacum capito che è per colpa di loro che vergoglio impera perché se si fossero schierati con noi oggi saremmo forse non dico migliaia milioni di fedeli ma dio vuole vincere con pochi evidentemente e satana non presenta mai il male non presenta mai il male come male lui presenta non abbiate dubbi su questo lo dico per i poveri disgraziati ovvero ho visto oggi delle statistiche preoccupanti anche questo è un segno dei tempi dell'anti uomo voi non avete idea monta nel mondo un odio verso il cristianesimo verso dio c'è un odio verso gesù cristo verso la madonna statue che vengono abbattute decapitate chiese bruciate cioè monta nel mondo un livore che può venire solo dall'anticristo e dalla trilogia trinità antitrinitaria nei confronti della fede cristiana però attenzione che il progetto appunto come vi sto dicendo quello di creare l'anti uomo che deve essere costitutivamente colui che adora satana oggi nel mondo è preoccupante io non voglio angustiarvi i miei cari figlioli però dovete sapere che le statistiche dicono che gli adepti di satana i membri delle cosiddette sette sataniche sono in crescita sapete qual è il paese dove crescono di più gli stati uniti d'america dove addirittura hanno ottenuto un approvazione a a livello politico cioè sono riconosciuti come una religione hanno il loro tempio dove c'è il cornuto a forma di caprone e questi vanno a pregare lì con tutte le approvazioni parlamentari del senato e quelle cose lì e adorano satana avete mai visto voi questo io non l'ho mai visto prima lo facevano ma di nascosto ora è pubblico e fra non molto grazie anche a bergoglio si riempiono quei centri di preghiera satana come dice chiaramente l'apocalisse vogliamo leggere il testo l'apocalisse dice molto chiaramente che accadrà così cioè gli uomini si volgeranno ad adorare satana e avranno odio verso dio e questo è l'anti uomo e adoreranno contro la ragione stessa adoreranno il diavolo guardate cosa dice apocalisse 13 guardate ascoltate opera grandi prodigi fino a scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini per mezzo di questi prodigi che le fu concesso questa è la bestia no di compiere in presenza della bestia seduce attenti al verbo il verbo greco è planao è uno dei verbi tecnici che indica l'azione di lucifero cioè deviare e sedurre il verbo greco planao di seduce gli abitanti della terra catoicuntes e gli abitanti della terra cioè gli esseri umani ci stupiamo che oggi l'umanità è senza dio ma oggi l'umanità non è più solo senza dio oggi la stragrande maggioranza l'umanità è contro dio perché adorano satana satana dal loro successo dal loro vita dal loro grazia dal loro gioia dio parla di croce di battaglia di penitenza mi capite e già in questo si nota che la stagione poste conciliare qualcosa di luciferino perché i preti modernisti parlano come adoratori di satana quando mettono sotto i piedi le devozioni la penitenza il digiuno l'ascesi la mortificazione eccetera eccetera li snobbano e li deridono perché oggi gli abitanti della terra adorano satana e aggiunge il testo sacro dunque seduce gli abitanti dicendo loro di erigere una statua alla bestia e le fu anche concesso di animare la statua della bestia in modo che quella statua perfino parlasse essa fa sì che tutti piccoli e grandi ricchi e poveri che non sono i cantanti liberi e schiavi forse anche loro non lo so ricevano un marchio un po per strammatizzare perché 20 uno poi si rende conto che queste cose stiamo vivendo mannaggia a noi ma non potevo io nascere nel medioevo coi pantaloni alla zuava e non lo so io il cappello quello piumato e che caspita è bello vivere in questi però che caspita e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia deve nascere l'anti uomo l'anti uomo è creato a immagine e somiglianza di satana come ora l'ho detto tante volte ma qui tocca sempre ribadirlo lo scrivo nel mio libro di commento all'apocalisse solo dio può creare ex nichilo cioè dal nulla mi spiego solo dio può creare dal nulla qualcosa la creatura no anche satana e creatura quindi non può creare dal nulla e allora deve deve adoperare il materiale esistente però vi stavo dicendo che la propone la maniera per ecco gli occhi aperti vi ho detto e l'altro qual è non mi ricordo più manco io gli occhi aperti e la disponibilità alla all'esposizione di sé se manca una di queste caratteristiche siete fregati lo vorrei dire come lo dicono i camionisti ma preferisco evitare se non avete una di queste due caratteristiche siete come dicono i camionisti fregati lo dico in termini sacerdotali dovete avere queste due caratteristiche occhi aperti discernimento vi ricordate quando facevo la prima parte catechesi dell'apocalisse dicevo che uno delle cose che l'apocalisse chiede è la sofia oppure il nus cioè dice giovanni quando parla del numero della bestia 666 poi dice qui occorre sapienza per interpretare perché bisogna avere gli occhi aperti per capire per capire le manovre di satana che vengono presentate come offerta di salvezza come gesto mai visto di opportunità salvifica per un'umanità immersa in un dramma senza precedenti dal quale sembra non ci sia vedi uscita però se ti sottometti a questo diktat satanico sarai salvo e se non mi sottometto ti riduco lo stipendio non so faccio delle ipotesi perché adesso non so se ancora queste cose sono così non lo so ti riduco lo stipendio te ne stai a casa e non lavori ti denuncio come crimine contro l'umanità e forse forse non escludo che recupero i campi di concentramento mi pare che sia così peregrina la cosa io credo di no cioè satana e con l'anticristo e col falso profeta la trilogia anti divina anti divina anti trinitaria progetta qualcosa per cui se non hai gli occhi aperti ti metti lì e dici eccomi sono pronto anzi è normale che io lo debba fare e si arriverà all'inverosimile quando vedrai uomini di chiesa anche ai livelli più alti nelle sfere più irraggiungibili della cosiddetta gerarchia cattolica raccomandare il marchio della bestia dovete prenderlo questo marchio è un atto d'amore verso l'umanità scioccante se abbiamo ragione noi è scioccante è qualcosa di inaspettato dovete avere amore miei cari credenti io sono il vostro capo sottoponetevi al marchio della bestia perché un atto d'amore verso l'umanità è così satana mette l'imprinting negli esseri umani e crea l'anti uomo dall'uomo già esistente guardate io parlo per la mia esperienza personale se io fossi un deficiente non farei quello che faccio ogni giorno tanti mi dicono padre ma come fai ad andare avanti ma lo dico io acqua benedetta acqua benedetta immagini sacre corone dappertutto o la gobba fra un po speriamo che la madonna non porti altro perché appena lo porti subito me lo metto croce di san benedetto scapolare medaglia miracolosa e poi dopo allora e i terrosari ogni giorno la divina misericordia l'orazione santa brigida ufficio lodi ora media vespri compieta ecco allora poi dopo adorazione eucaristica poi la talare e poi questo allora non so se mi capite cioè io mi proteggo da satana perché lo so non sono un idiota tengo gli occhi aperti mi proteggo dal diavolo mi spiego e così io vedo che funziona perché il diavolo è sempre lì pronto ad attaccarmi non vi dico come perché forse rimarreste senza parole ma io riesco ma non io la grazia di dio mi aiuta a resistere ora se io non usassi l'acqua benedetta come fanno tanti preti no te li vedi che a un certo punto si spengono gli abbutta pure a dire la messa avete mai visto i preti vi auguro di non trovare come è capitato a me mai un prete nella vostra vita che vi fa capire che non gli che gli abbutta a dire la me che gli secca salire all'altare per la messa e alza l'ostia così questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi e poi la getta anche con disprezzo perché è infastidito da lì la messa quello lì è un prete modernista che non mette più la talare che non fa più penitenza che non si mortifica che non prega che non dice il rosario che non usa l'acqua benedetta che non si confessa eccetera eccetera e allora satana prende campo perché vi sto dicendo questo perché questo è il momento che satana ha capito che il più ghiotto per mettere in campo l'anti uomo perché la gente non prega più guardate questo è qualcosa di sconvolgente a parte la gente non prega più non prega più la gente non ci sono più i sacramentali la gente non crede più nelle verità del cielo e quindi satana che era messo lì come il serpente ha capito che era il momento opportuno per mi spiego per allora questo è il kairos satanico una sorta di non mi ricordo il termine adesso tecnico un ossimoro un kairos satanico cioè questo è il momento per creare l'anti uomo fetente senza dio contro dio legifera collegi che vanno contro il vangelo che bestemmia che vive dalla scinta in giù come un animale e ne fa l'anti uomo facciamo io satana l'anticristo e il falso profeta l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e allora di fronte a tutto questo qual è il rimedio è maria questa sera io voglio in questi ultimi minuti parlarvi dell'arca di noi abbiamo parlato la prima sera di maria concepita senza peccato su cui satana non dà il morso ieri sera abbiamo parlato di maria e edenne il giardino teresa questa sera accenniamo a maria arca dell'alleanza guardate allora noi siamo in una condizione senza dubbio non a non simile a quella spero di non sconvolgere ma penso che sarete d'accordo come non è simile a quella di noi è peggiore perché ancora gesù cristo lì non era venuto capito mentre qui siamo nell'era dopo cristo perché non c'era una falsa chiesa governata da un falso papa e non c'era il nuovo ordine ma insomma è la situazione molto peggiore lì è venuto il diluvio queste pagine sono bagnate dall'umidità vai a vedere le mie ossa lì speriamo che il mio cervello pure non si inumidisca lì a certo chissà cosa potrei dire lì era il diluvio cioè le acque le cateratte che si aprono e viene giù il diluvio del c'è ma qui il diluvio è quello della fede il diluvio anzi questa sera vi dico il diluvio della ragione allora dobbiamo entrare nell'arca così il testo sacro dio raccomanda ad anno è di costruire l'arca e al capitolo 7 della genesi leggiamo al versetto 1 seguenti il signore disse a noè entra nell'arca ecco capito sta per arrivare il diluvio ma dio ha a cuore la salvezza del giusto noè e della sua famiglia a fatima la madonna ha anticipato il diluvio che stiamo vivendo della fede il diluvio della ragione il diluvio della dimensione umana per questo ha detto a fatima dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato quando nel 2020 gennaio 2020 sono andati in argentina sono da visitare il posto dove è apparsa la madonna alla veggente di san nicolas gladis chiroga de motta e apparizione madonna di san nicolas riconosciute tra l'altro qualcuno dice che quelli la madonna avrebbe detto che bergoglio è il papa eccetera non lo so io vi leggo solo questo passaggio del messaggio di un messaggio in cui la madonna dice in passato e scusate in cui gesù dice in passato il mondo fu salvato dall'arca di noè oggi l'arca è mia madre gesù non veramente non sapeva più come dircelo e aggiunge è attraverso di lei che le anime si salveranno perché le condurrà a me chi rifiuta mia madre rifiuta a me allora il discorso mi sembra risulti chiaro decisivo cioè come l'arca al tempo di noi fu l'unico mezzo attenzione non ce ne furono altri non è che mentre noè costruiva l'arca gli altri patriarchi antidiluviani hanno fatto un convegno e sotto l'invito di bergoglio un sinodo dei vescovi italiani con tanto di borsa a me mi fanno una pena questi qui che meritano questo pena provo pena per questi vescovi massoni che si riuniscono con le borse le giacche il clergyman a discutere l'umanità affonda e questi anziché andassi a gettare ai piedi della croce invocare la misericordia di dio e invitare alla preghiera alla penitenza fanno documenti stilano documenti non c'è altro nella gente non c'è un altro strumento è l'arca di noè lo strumento di salvezza è stato l'unico mezzo di salvezza allora come ai tempi di noè del diluvio universale l'unico mezzo di salvezza è stata l'arca oggi in questo diluvio della ragione della fede l'unico mezzo non ce ne sono altri è il cuore immacolato è dolice la madonna dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato non dobbiamo cercare quindi altri rifugi certamente e qui lo dico a passà può valere la profezia anzi merita rispetto alla profezia che dice poniamo andiamo via dai paesi dove l'impostura è maggiormente presente non va condannato chi dice quello è mandato da dio sapete tutti voi a chi mi sto riferendo che viene preso di mira io per questa sera veramente vorrei proprio fare il nome samuel colombo che viene preso di mira da tanti come esagitato come lui esercita una profezia perché dice bisogna andare via dall'italia ora naturalmente né tutti possano andar via né lui deve rimanerci male se non si può andar via tutti però lui esercita la profezia perché potrebbe essere anche questa una via che dio apre certamente non tutti possono andare via dio usa tutti i mezzi possibili ma quello comune a tutti è il cuore immacolato di maria e perché il cuore immacolato di maria io stasera sto per dire una cosa che non ho mai detta e mi piace che non l'ho potuta inserire nel mio libro di commento all'apocalisse io credo che il cuore immacolato di maria è il rimedio per non diventare noi anti uomini non so se mi spiego ho detto tutto e quindi ci può entrare bergoglio non ci entra che passa come papa e fusaro invece sì questi sono tempi incredibili il cardinale tizio di dove non so io non ci entra e vittorio sgarbi sì perché questo è il tempo in cui il cuore immacolato di maria salverà coloro che rifugiandosi lei come nuova arca di noè non rinunceranno a essere uomini non perdone per non diventare anti uomini col marchio della bestia occorre rifugiarsi nel cuore immacolato di maria noi sappiamo com'è andata dice il libro di genesi al capitolo 7 versetto non lo vedo non lo vedo 10 versetto 10 ai 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 dopo sette giorni le acque del diluvio furono sopra la terra 7 un numero simbolico come sapete che indica la 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 totalità allora oggi noi siamo nella quella la totalità del male per il diluvio questo che noi oggi stiamo vivendo è la totalità del male per i nostri tempi dell'apocalisse cioè ormai le acque della irragionevolezza no e dell'apostasia della fede hanno raggiunto il colmo non c'è dubbio si annega rimanendo vivi e però coloro che stavano dentro l'arca guarda cosa dice ancora il testo sacro cadde la pioggia sulla terra per 40 giorni e 40 notti in quello stesso giorno entrarono nell'arca no è con i figli sam cam e iofet e iafet la moglie di no è le tre mogli dei suoi tre figli vennero dunque a no è nell'arca gli animali quelli che venivano entrarono come gli aveva comandato dio attenzione come si conclude il testo prima dell'inondazione perché poi inizia il diluvio il signore chiuse la porta dietro di lui è certo se il cuore bacolato di maria è un rifugio è ovvio che a un certo punto questa porta si chiude io ho citato le messaggi di san nicolas che qualcuno contesta figurarsi in italia il cattolicesimo contestatario quello italiano e ma allora vi cito quello che gesù ha detto alla beata alessandrina da costa che è stata beatificata da giovanni paolo secondo cooperatrice salesiana mistica che aveva apparizioni gesù di maria portoghese l'amato e gesù ha detto nel 1932 gesù ha detto stanno per arrivare i tempi delle della prova come rifugio vi do il cuore immacolato di maria mia madre nuova arca di no è allora mi sembra che in tempi di mino di minimalismo mariano dove i modernisti bergoiani si distinguono per il tentativo di smontare l'impianto mariano noi siamo quelli che un po preoccupati perché adesso non vorrei che venisse fuori spero di no la sindrome da assedio dobbiamo guardare al cuore immacolato di maria il cuore tutto santo padre pio fu derogato doveva essere il cuore immacolato e rispose l'unico luogo creaturale dove satana non può entrare quindi siccome satana in questo momento è veramente scatenato io ve lo dico fiori marico forse qualche volta vi parlerò di come mi attacca e di che cosa fa per provare a fermarmi ma è purtroppo per lui è irragionevole perché così dimostra primo che sto andando bene per la mia strada e secondo che è appunto è arrabbiato perché sto agendo bene capite ma veramente è scatenato satana è furibondo è strano perché ora che in questo momento come non gliel'era mai accaduto addirittura ai suoi adoratori sulla terra più che in ogni altra epoca dovrebbe essere soddisfatto no in realtà satana sa per una sorta di spada di damocle che più aumenta il suo potere e più si avvicina la sua disfatta che sarà tremenda perché a sconfiggerlo per disegno decreto divino sarà maria quindi è umiliante per lui essere sconfitto da una donna così piccola e così umile come maria e così è scatenato furibondo mai come oggi noi viviamo un tempo nel quale dobbiamo aver pazienza chi prega sa ciò che dico chi rinuncia allo spirito del mondo sa ciò che dico chi rinuncia al fascino sua dente del sempre laudando come dice diego fusaro bergoglio sa quel che dico chi recita i tre rosari sa quel che dico sperimenta che le situazioni gli avvenimenti gli si mettono contro guardate è prova tecnica poco fa mentre confessava un'intera famiglia padre madre figli fratello sorella suocera nuova tutta famiglia vini gli si è fermata la macchina quando sono arrivati non partiva più quando sono arrivati allora poi quando si è confessato una della famiglia ha detto padre ma la macchina e io ho proprio sentito questo è forte appello del cielo a dire non ti preoccupare è stato il diavolo perché si è arrabbiato che siete venuti tutti a confessarvi dalla parte giusta adesso vedrete che dopo che vi confessate mettete in macchina la macchina si mette in moto sapete com'è andata che mentre ancora confessavo la tipa è venuta interrompendo la professione padre la scinghia è rotta ma la macchina funziona capito allora uno per dire veramente satana è scatenato quando tu preghi lo sperimenti ti mette le situazioni contro io mi accorgo nella mia vita miei cari figlioli che devo avere una pazienza immensa perché credo molto alle relazioni ma basta una parola non capita perché anche io sono un povero cristo non è che sono perfetto un gesto malfatto una disattenzione se non si è umili profondamente radicati in dio se ne vanno e io divento il peggior nemico del mondo satan è scatenato ma allora abbiamo un solo rimedio l'arca perché le acque non travolgono l'arca anzi l'arca galleggia allora io soffro un po' il mar di mare quindi voglio augurarmi che questa apostasia delle fede non ci rompa le scatole più del dovuto e cioè che che sia al mare insomma non sia maremossi però dentro l'arca siamo al sicuro ma poi voi mette insieme alle scimmie agli elefanti alle tigri capito e lì è uno zoo vivente e fai fatica a distinguere gli esseri umani da tutti gli altri poi coi tempi che corrono allora l'arca però per entrare allora dicevo due cose e per stasera concludo prima che arriviamo a mille se no poi i poveri nemici stanno male siamo a 935 e stavo dicendo quindi ci vogliono gli occhi aperti vi ricordate qual era l'altra caratteristica la disponibilità all'esposizione è inutile che qui facciamo i giochi di prestigio per farla franca questo non è cristiano cioè evidentemente miei cari figli dobbiamo essere disponibili al martirio qualunque tipo di martirio questo comporti un po già lo viviamo noi che stiamo con papa benedetto per esempio siamo emarginati presi di mira a me veramente non mi può si dice siciliano cioè non mi dà pace l'idea che siano venuti i carabinieri sembra una prete scomunicato ma chi è perché un prete scomunicato che ha il kalashnikov che c'ha il prete scomunicato la mitragliatrice c'ha le bombe a mano non è che siamo sul ridicolo ma dove c'è satana guardate uno dei segni con cui a me è stato insegnato da padre amort di riconoscere la presenza del diavolo anche in pseudomistici quando sono ridicoli no della serie il padre eterno che parla ogni riferimento è puramente incasuale verrà il castigo ma dio padre parla così senti che c'è il ridicolo l'etna esploderà e la sicilia sprofonderà tu sei ti ci casca purtroppo purtroppo sono irreversibili ma se tieni gli occhi aperti ti accorgi che c'è qualcosa di ridicolo perché dove c'è satana c'è il ridicolo capite allora bisogna avere gli occhi aperti ma la disponibilità però e questo è molto importante noi siamo custoditi dalla santa vergine e non sappiamo come potrà andare alla fine io ho parlato in altre occasioni del sollevamento degli eletti per esempio io non ci credevo non che non ci credessi ma insomma mi sembrava che fosse eccessivo e invece sant'agostino dice già nel decivitate dei credo il libro decimo però potrei o diciannovese adesso non mi ricordo bene ma nel mio libro sull'apocalisse lo riporto lui dice proprio che ci sarà il sollevamento degli eletti che nella conflagrazione cosmica finale in cui satana sferrerà con l'anticristo l'attacco finale gli eletti saranno sollevati anzi lui vi ricordate che dicevo sollevamento ma l'altro termine era rapimento rapimento degli eletti alla maniera di enoch a dio nulla è impossibile noi non possiamo sapere che cosa potrà accadere per gli eletti potrebbe dio fare così maramao a satana non possiamo sapere ma una cosa è certa nel nome di maria e immersi nel suo cuore immacolato tutto santo e tutto puro noi diremo di no all'anti uomo diremo di no alla sperimentazione genetica diremo di no alla costruzione e salvifica di qualcosa che sovverte e altera il patrimonio genetico dell'uomo perché lo sovvertimento del patrimonio genetico significa tu cur la costruzione dell'anti uomo cioè di un uomo preso dall'uomo come l'ha creato di dio per farne la creazione di satana e per questo però non dobbiamo aver paura se ce la facciamo sotto non siamo adatti a questo combattimento dobbiamo guardare a maria dobbiamo guardare alla madonna dobbiamo amarla dobbiamo venerarla dobbiamo averla sempre il suo nome sulle labbra nella bocca nel cuore mentre vi parlo di fronte a me ho la luna quasi piena ecco è proprio di fronte a me quindi alle vostre spalle e questo ci guardate per quel che mi riguarda sempre dico la madonna è la mia forza io non so allora vi rivelo una cosa e concludo per stasera quando sto male fisicamente invoco gesù ma questa cosa i calcoli renali oppure quando ho problemi alle ossa che mi fanno particolarmente male la febbre eccetera io stranamente dico stranamente adesso capirete perché invoco gesù capito invece quando si tratta la situazione più tremenda più pericolosa che quella che stavano invoco maria perché la mamma è al solo pronunciare io figlioli cari provo un'immensa pace ed è quello che auguro a tutto a tutti voi di guardare a maria e di invocarla e di invocarla come diceva san bernardo e concludo domani e la sua festa iniziato con lui concludo con lui respice stella in voi chiunque tu sia il flusso questo tempo ti accorge che più che camminare sulla terra stai come ondeggiando tra burrasche tempeste non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca se sei sbattuto dalle onde della superbia dell'ambizione della calunnia della gelosia guarda la stella invoca maria se l'ira o l'avarizia o le lusinghe della carne hanno scosso la navicella del tuo animo guarda maria se turbato dall'enormità dei peccati se confuso per la coscienza sperazione pensa a maria non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore e per ottenere l'aiuto della sua preghiera non dimenticarla seguendo lei non ti smarrirai pregandola non ti dispererai se lei ti sorregge non cadi se lei ti protegge non cedi alla paura se lei è propizia raggiungi la menta la meta or dunque guarda la stella invoca maria bene miei cari allora il tempo è terminato non c'è neanche spazio per le telefonate e vi auguro di trascorrere questa notte nel se pace in compagnia di queste catechesi sua madonna può darsi che ne mettiamo insieme le pubblichiamo e queste catechesi che sto facendo questa settimana sono questa settimana santa ma comunque siamo dall'assunta alla al cuore immacolato di maria e su tutti voi invoco proprio per intercessione di san bernardo di cui domani celebreremo la festa doctor maria e doctor meliflus la santa benedizione del signore in nomine patris et fili e spiritus santi a messia lodato gesù cristo e avanti con amico maria